Benvenuti in questo nuovissimo video, prima di lasciarvi alla live reaction vi dico subito che il video dura giusto pochi minuti perché ieri essendo andata allo stadio non sono riuscita a riprendere tutta la partita, anzi mi ho detto anche bene che comunque sono riuscita a riprendere il gol spero che comunque il video vi piaccia, se è così lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate anche qui sotto qualche commento, i giudizi sono sempre graditi inoltre se avete in mente video che potrei fare, magari particolari che vi interessano, soprattutto voi questa settimana che non gioca la serie A me lo potete scrivere qua sotto nei commenti e vedo quello che posso fare niente quindi io vi lascio al video, vi invito inoltre a seguirmi qui su Instagram, metto il mio nickname e niente buona visione, bella raga bene a tutti raga, benvenuti in questo nuovo video, oggi sto andando allo stadio a vedere Lazio e Fiorentina quindi farò tipo un vlog live reaction o qualcosa del genere e adesso vado a casa di un mio amico che è da Fiorentina, lo raggiungo e poi andiamo insieme allo stadio niente, l'ultima volta che ho visto un video con quelli dell'altra squadra è andata a finire male come ben sapete quindi speriamo bene, bella c'è un'anima grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Immobile! Immobile, sì! Finisce il primo tempo, riduttato di 1-0, gol di Immobile. Stiamo a giocare bene, meritato secondo me per adesso. La Fiorentina non ha fatto niente, c'è giusto un'occasione con c'è stato armitico Wallace, però vabbè, muo vediamo e speriamo bene al secondo tempo. Finisce 1-0, mamma mia regà, che sofferenza, non si va più così, non si va più. Tre punti fondamentali, forza Lazio!